Oddio ora esplode tutto! Amici oggi è grandissimissima ma tipo talmente grande che voi non avete idea richiesta Andiamo a riprovare o meglio riprodurre i tiktok più virali, più belli, tutto più quello che volete di minecraft Ovviamente li andiamo a riprodurre, ce ne sono tipo tantissimi fuori di testa in questo episodio Magari vi ho anche messo una piccola clipettina nella intro, di sicuro l'avrò fatto Quindi andiamo a provare, io vi invito a lasciare un piaccio e commento, tutto quello che volete signori Mi casa e stu casa, fate come se fosse a casa vostra E iniziamo, non vedo l'ora di iniziare signori, su iniziamo, basta con la intro Amici come potete vedere siamo sempre nel solito mondo Infatti qua vediamo i tiktok che ho già provato negli episodi scorsi In caso vi invito ad andarle a recuperare che tipo sono una figata total Cioè fuori di testa signori fuori di testa E oggi andiamo a provare questi quattro Allora il primo, non voglio spoiler l'albero Comunque una sorta di ponte di lava, ma ora lo vedrete In questo episodio come vedrete ho deciso di tenerne alcuni tipo potentissimi E ora vi farò vedere l'ultimo Ma altri un po' tranquilli che potranno migliorare la vostra vita quotidiana Su minecraft tipo in una vanilla Ad esempio qua vediamo un barbecue Ora vi faccio vedere come si fa, è facilissimo E idem tipo una poltrona d'acqua Tutta particolare, tutta strana signori Ora vi faccio vedere un po' di cose particolari Ma la cosa più bella che ho già provato Per vedere se funziona ai signori Funziona È questa cosa cicciona Che ha creato questa cosa ancora più cicciona Quindi signori non vi voglio far vedere da subito cosa fa e come si utilizza Ovviamente sapete già che farà questo casino Ma lo andremo a vedere insieme E direi come vedete che ho già nell'inventario le varie cose Di fare il primo TikTok Ovvero questo ponte strano particolare Gli oggetti che ci servono sono pochi Vabbè la sabbia in caso distruggesse tipo qua Quindi ho preso la sabbia Del quarzo, ma potete usare i blocchi che volete Una stringa Dei lava bucket Gli slab non servono In realtà non so perché li ho presi Pistoni Tripwire E la redstone torch Potrebbe servire Ma volendo potete anche fare senza Iniziamo Allora voglio farlo esattamente in parallelo a questo Quindi come vedete ho piazzato i tre blocchi iniziali E poi scaliamo di undici Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto Nove, dieci, undici Chiudiamo qui degli altri due Perfetto Quindi vedete che a parte col coniglietto Che è molto fastidioso e vuole cadere nella lava Il resto è tutto uguale Ora non ci resta che piazzare In realtà potevamo farlo prima Potrebbe sbagliato Dobbiamo praticamente piazzare i vari pistoni di qua Esattamente, esattamente così Perfetto Quindi chiudiamo il tutto con la sabbia E continuiamo a piazzare i pistoni Esatto Quindi se voi lo volete riprodurre Prima piazzate i pistoni Poi il quarzo Non fate il mio stesso errore Perché vi viene assolutamente Cento milioni di miliardi Di milioni Di volte più comodo Quindi tra l'altro queste cose Sono appunto rifattibili e riproducibili Nei mondi Vanilla per esempio Quindi se voi magari giocate nella vanilla Con dei vostri amici È tipo stradivertente fare queste cose Così cadono nelle varie trappole E vi fate le peggiorisate Ma tipo ne sono 100% sicuro Quindi come vedete abbiamo fatto il tutto Qui dopo scaviamo Ma tranquilli lo facciamo dopo E ci mettiamo i vari tripwire Quindi andiamo a piazzare il tutto Tec 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 E prima di collegare i fili Come ho detto pochi secondi fa Andiamo a distruggere il tutto Dai diciamo che lo facciamo profondo Ancora uno Magari viene meglio Proprio da ancora di più l'impressione Di buca della morte Diga proprio di quelle che dici Vabbè da una cosa del genere Non ci uscirò mai vivo E in effetti Se ci cadi Non ci uscirai mai vivo Tipo nella vita Quindi perfetto Abbiamo fatto tutto simmetrico Tutto giusto No quello no Non va bene lì No Masser è sbagliato Facca tutto Perfetto Quindi ora Il gioco è praticamente fatto E dobbiamo semplicemente Mettere tutte le stringhe E collegarle ai due lati Qui mi sa che ho saltato Qui è stato non messo una di troppo E colleghiamole Facendo vedete Tec Il gioco è fatto Mettiamo il tutto Poi ovviamente Ricoprite sempre quelle cose che volete E vedete che ogni volta Che passerete sulle stringhe Boom Non morirete Appunto cadendo Quindi può essere tranquillamente un ponte Oppure potete dire a un vostro amico Sì sì guarda passa su Che è un ponte Invece tec Gli lasciate una stringa Che non si allaccia E quindi cadrà nella lava Può essere un bello scherzo Quindi il primo tiktok Fatto Eppure approvato Dai guardate che brutto L'ho fatto un blocco indietro Vabbè signori ci accontentiamo Comunque approvato Per quanto riguarda il secondo tiktok Sempre lo voglio fare in parallelo a questo qui È tipo una stupidata totale Bisogna mettere due campfire Però ora mi è venuta una curiosità Come vedete nell'inventario Due campfire blu È la stessa cosa? Mettiamo quelli? Mettiamo quelli Poi dobbiamo mettere il loom Che tra l'altro non sapevo si chiamassero loom in inglese Ci ho messo sei giorni a trovarli Ma vabbè piccoli dettagli E sopra questi loom Senza romperli grazie Ci dobbiamo mettere questi cosi Le trapdoor di Birch Perché fa più effetto barbecue In parte ci mettiamo le iron bars Però mi sa che le ho messe al contrario loom Sapete che mi sa che le ho messe al contrario? Davanti ci mettiamo questi E le iron trapdoor Che per renderli in modo molto più grill Effetto grill Effetto tastini Quelli che bisogna girare I grill Li appunto giriamo E qua sopra per concludere il tutto Vedete questo molto facile Molto easy peasy E ho sbagliato Perfetto Proprio easy peasy No Anche niente Lo completate così E ora per rendere il tutto di più Prendiamo la Prendiamo la stick Quella bella cotta E te Che ce la mettiamo sopra Vedete Tocco di classe Mi è venuto in mente adesso Lo mettiamo anche di qua Ma si dai Mettiamoci la stick ovunque E se lo alziamo Stuck Che va a crearci un barbecue Bello importante Cioè a me È piaciuto Mi sta piacendo Tranquillamente Lo potete riprodurre Nella vostra serie Vanilla Molto bello Molto molto bello Quanto imponenti Questi fasci Vabbè lascia perdere signori Passiamo al terzo E poi L'ultimo L'ultimo È tipo Un bijou Signori Un bijou Stupendo Signori anche questo qui Come vedete Tipo ci mettete Meno di 3 secondi a farlo Ci si mette di più a dire Che a fare E dobbiamo fare Un muretto dietro Per rendere il tutto Molto più carino E comunque stiloso Mi sa che dietro C'è anche un Esatto Un dispenser Sì Quindi mi sono dimenticato Di prendere il dispenser Check Eccolo qui Volevi scappare Il dispenser Cosa volevi fare Spacchiamo qui in mezzo E ci mettiamo appunto Il nostro dispenser Ora Dentro il dispenser Ci dobbiamo mettere L'acqua Perché ho delle snowboard Vabbè Lasciamo perdere E delle scalette Tec Ai lati Le botole Che si andranno A chiudere A mo' di trono Anche davanti Perfetto E una leva qua sopra Che se viene tirata Sbom Fa cadere l'acqua In questo trono O gabinetto Dipende dai punti di vista Può essere tranquillamente Un trono d'acqua O un gabinetto Dal quale Non scenderà La nostra acqua Non pensavo Sinceramente Prima di vederlo Perché sono andato Un po' a spulciare In giro Che potesse succedere O meglio Che l'acqua Non potesse cadere Molto figo Lo lasciamo Uno aperto Uno chiuso Ma se dai Uno aperto Uno chiuso Per far vedere La differenza E il gioco È fatto Ma ora signori Signori So che stavate Aspettando Fino alla fine Questo tiktok E finalmente La fine è arrivata Ora come vedete Sembra una cosa normalissima Colleghi due redstone Qui manca la redstone Altrimenti parte tutto Ora vi faccio vedere Come si fa E così ne facciamo Partire due insieme No delirio Ne facciamo Partire due insieme Mattanz Finisce in tragedia Lo so Questo episodio Deve proprio finire In tragedia Vabbè Allora mi prendo Tutti i materiali E ci vediamo dopo Senza uscire dal gioco Ok Ci vediamo dopo Allora Ho tutti gli ingredienti Tranne uno Poi vi spiego il perché Anzi tranne due Mi mancano I slab Di quartz Perfetto Allora Partiamo facendo Un triangolo Lo facciamo simmetrico No facciamo un po' più spostato Fidatevi Meglio spostato Ma non troppo Quindi lo facciamo qua Allora facciamo Un triangolo Di dispenser Sempre messi Dispenser Ok perfetto Un triangolo di dispenser Che si guardano Qui mettiamo un quartz slab E qui questo E dentro Io non la sapevo sta cosa Se mettete l'acqua Grazie alla scala Non esce Io mi ero ancora fermato Ai sign Non so come si chiamano In italiano Comunque che appunto Ti fanno bloccare Ti bloccano l'acqua Questa cosa non la sapevo Meglio GG ci sta di più Ora senza metterlo nel dispenser Mettiamo un coso qui Poi due dispenser Che si guardano Intanto si fa pure giorno E ora Mettiamo Tre slab Sì esatto Tre slab Per appunto andare a bloccare Vabbè Poi vi spiegherò Poi dietro questi slab O meglio Dietro questi dispenser Più che slab Ci mettiamo il quartsega E davanti Vediamo Spera mi sono perso un pezzo Quindi andiamo a sbirciare Qua cosa c'è Un altro dispenser Ok Quindi Rimettiamo questo Grazie Ci andiamo a fare appunto Una sorta di croce Nella quale Esatto È uguale Perfetto Dobbiamo andare a mettere Qui uno più sopra Tec tec Poi tranquilli Lo distruggiamo Quello sotto Distruggiamo anche questo E ok Perfetto Risulta uguale Risulta uguale E ora distruggendo Questo in mezzo Al posto appunto di quello Ci andiamo a mettere Un dispenser Ne mettiamo uno anche dietro Per fare da coso Ora dietro Ci mettiamo Le torce di redstone Che già sono mezza accese E qua colleghiamo Il tutto semplicemente Con la redstone Vedete che già Fai ticchettini Ticchettini vuol dire buono Ci andiamo a prendere Un casino Ma un casino Di TNT E facciamo che Collego tutto subito Sì dai Colleghiamo il tutto subito Altrimenti poi magari Sbaglio qualcosa Quindi Piazzo la TNT Qua dentro Ne piazzo Uno qua Uno qua Signori Sta per Sta per succedere Il casino Sempre che non failo Poi magari faccio Un mega fail Tipo Mi metto a piangere Potrebbe finire in tragedia Signori ve lo dico tranquillamente Ecco Ecco si Oddio Oddio Ora esplode Tutto No 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 i miei altri Tiktok No non puoi distruggere Eh vabbè Niente Niente Ok Uh si sono salvati No l'acqua lì è morta Signori Che figata E calcolate E calcolate Che ho messo solo Uno stack Cioè guardate Quanto si sono distrutti A vicenda Secondo me Hanno un po' Attutito il colpo Perché si sono Disintegrati A vicenda Cioè un esploso Quindi ha distrutto L'altro che non ha fatto Esploro Che casino È successo È successo un casino Però buttando via Questa roba Eppure questo Va rimaniamo solo con la Con la sabbia Mi è piaciuto Tantissimo Abbiamo dovuto Purtroppo Sacrificare un Tiktok Rimarrà così E io non li tocco Ormai questa è la valle Della morte E rimarrà per sempre Così con queste fontane Un po' penzolante Oh potremmo aver creato Noi un tiktok Attenzione Una cosa Un piccolo hack Un piccolo life hack Ovvero l'acqua Che sta su da sola Cioè Avete mai visto un'acqua Che sta così su da sola Io no Ora l'abbiamo creata noi Bravo master Mi batto il 5 da solo Quindi signori Questo episodio È stato prolifero Perché tanta roba Proprio tantissima roba Spero che questo episodio Di tiktok Vi sia piaciuto Vi invito a consigliarmi Magari altri video Magari sapete Qualcosa di particolare Che non lo so Magari mi linkate Qualche video Fate quello che volete Nel dubbio Sono sicuro Che ne farò altri Vi ringrazio per la visione Vi do appuntamento domani Allo solito ore Ovvero il 2.45 Con questo nonchalance E questo movimento Incredibile di braccia Con un nuovo video Ciao E il cannone di TNT Fuori di testa Pou